Di Arrigoni, Bertelli, Diego Fenaroli, il gruppo si è già spaccato, Bertelli, Bertelli e Diego, Bertelli e Diego, ci sono staccati dal gruppo, Bertelli ancora, Bertelli, Bertelli e Diego, Ancora Diego in punta, con Bertelli, ancora Bertelli che tira, Andrea Arrigoni, andò andato un po', ecco Diego che tira a Diego, tira a Diego, ancora Diego Fenaroli, Andrea Arrigoni, li segue? Ecco, ecco, ecco qui, secondo gruppo dei contrattaccanti. Gruppo che si è frazionato, si è spaccato in tanti piccoli tronconi. Gruppo che si è frazionato, se vuoi andare, vai Daniele, se ce la facciamo, vai. E' preso Fabio? Non so, dove è? Era in coda a me pare. E' qui no? E' questo vestito rosso. E' questo allora? No. No? Allora è qui. E' che? E' questo? No, no, lo viste qui, eh? Ecco Giovanni Faroni. Ecco Giovanni Faroni. Ecco Mattia Bertelli, ha attaccato un po' dietro Fenaroli. Erano in due, in fuga. C'è appena Bertelli, Fenaroli a 100. Ecco Bertelli. Ancora, ancora Mattia Bertelli. Solo. Solo al comando. Ecco ancora, ancora Mattia Bertelli. No, no. Vai, 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 vai.